Ufficializzati stamattina i deferimenti firmati ieri dal procuratore federale Stefano Falazzi che si riferiscono alla prima tranche dell'inchiesta Last Bet della Procura della Repubblica di Cremona, quella per intenderci riguardante il calcio scommesse. 61 tesserati, 22 società, 3 di serie A, Atalanta, Novara e Siena. In serie B era nelle previsioni ma ora è ufficiale, c'è anche il Pescara. Per responsabilità oggettiva ai sensi degli articoli 4,2 e 7,4 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Gianluca Nicco per violazione dell'articolo 7,1,2,5 dello stesso Codice. La partita, Piacenza-Pescara del 9 aprile 2011, il reato, quello di aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara per quanto riguarda il calciatore. I soggetti riconosciuti e responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con un'ammenda non inferiore a 50.000 euro. Questo è il dettato dell'articolo relativo all'illecito sportivo. E in virtù dell'articolo 4 le società rispondono se dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. Le sanzioni, cosa rischiano le società? Una volta accertato l'illecito, le sanzioni a carico della società sono ravvisabili nei commi dell'articolo 18 e commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi. Cosa rischia il Pescara dunque? Si va dalla semplice ammenda allo spettro di un'eventuale penalizzazione di uno o più punti in classifica. A dire la verità uno spettro che potrebbe rimanere tale. Questo perché la responsabilità della società è oggettiva e non diretta, dunque risponde indirettamente per l'eventuale illecito di un proprio tesserato, ma non come partecipante coinvolta nell'illecito. E a testimoniarlo il fatto che nella lista dei deferiti non figure ad esempio l'ex direttore generale Fabrizio Lucchesi. Comunque non una grande notizia tre giorni dalla sfida col Torino. Uno sguardo infine alle altre società deferite. Albinoleffe, Ancona, Ascoli, Avesa, Cremonese, Empoli, Frosinone, Grosseto, Livorno, Modena, Monza, Padova, Piacenza, Ravenna, Regina, Rimini, Sampdori e Spezia.